Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per domenica 20 gennaio. Bene, un nucleo di aria artica, non molto intenso ma abbastanza freddo, raggiungerà i Balcani e da qui si riverserà sul medio alto Adriatico e poi su tutto il centro nord, perché è richiamato sull'Italia da un vortice di bassa pressione prossimo alla Sardegna e alla Sicilia. Ecco allora il tempo previsto, come potete vedere piogge sul Lazio, Umbria al sud e sulle isole maggiori, nevicate sulle marche, persino sulle coste, nevicate fino a quote molto basse sui rilievi abruzzesi e sui rilievi molisani. Come dicevo farà freddo, nel senso il freddo sarà in aumento su tutto il centro nord, mentre al sud le temperature ancora resteranno nella norma o appena al di sotto della media. Per quanto riguarda invece le temperature minimo notturne, attenzione alle gelate che si verificheranno tra domenica e lunedì, soprattutto sul nord Italia. Termino qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Grazie.